Un saluto a tutti e benvenuti alla live dedicata al Farming Simulator 19 della domenica sulla Hi everyone welcome to our rendezvous of the stream of Farming Simulator 19 on the RC Alpine Salut a tutti e benvenuti alla live dedicata al Farming Simulator 19 sur la map sur la dlc Alpine Adesso Ok now let's go on On commence on continue Andiamo avanti con la nostra raccolta mega raccolta di mais Nell'ultima live abbiamo lavorato per bene il campo lo abbiamo prima di tutto Lo abbiamo arato poi lo abbiamo anche lavorato con la calceviva poi abbiamo fatto tutto il resto Lo abbiamo avuto Grazie per la calccio E' la calccio E' la calccio E' la calccio E' la calccio A Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Funziona tutto. Andiamo avanti. Let's go. Un lavoro molto difficile. Un lavoro molto difficile. Un lavoro molto difficile. Farming simulator a breve, a novembre, 22 novembre, uscirà la versione 22 del gioco. E voi avete già preacquistato la vostra copia del gioco. Sto aspettando il 22 novembre. The date that will go out. Farming simulator 22. Do you have a boot yet your copy of farming simulator 22? Il 22 novembre. 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 Andiamo a recuperare il nostro mitico Turbo Star. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. To bring our Turbo Star. Let's go. To the Turbo Star. To bring our Tommy. Let's go. Flutters. Let's go. 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 la nostra trebbia elettrica e quindi non dovrebbe inquinare quanto un motore classico a combustione. La nostra caratteristica è un'elettrica, quindi non dovrebbe damage the environment. Nel frattempo noi continuiamo a lavorare il campo. Dicco, dicco. Dicco, dico. Dicco. 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 stichete 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 grazie mille per il follow benvenuti a tutti thank you for the follow welcome everyone thank you thank you thank you merci per il follow benvenuti merci 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 vediamo un po il prezzo di semi di soio io direi di andarlo a vendere dopo vedremo di vendere anche un altro po di semi di soia per guadagnare qualche soldino I'll try to sell later any soya beans for earning extra money ci vabbè vendere della soia tutta l'air per vedere se dovremo pagare un po d'argent extra mi sa che devo acquistare una lama un po' più grande mi sa che devo acquistare una volta Io però, direi di prendere questo che ha una maggiore capacità di carico. E noi ci siamo. Questo è oro, questo è oro. E noi ci siamo. No, mi han distrutto il raccolto. Meno male che era poco. 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 Meno male. Meno male che era poco. Meno male. Meno male che era poco. Meno male. Meno male. Meno male che era poco. Meno male. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Iniziamo a raddrizzare un po' la linea. Grazie a tutti. Si continua con il nostro lavoro. Dico 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 Taco Soft Gaming Bisogna rilassare Musiamo rilassare mentre guarda il mio video Se senti rilassare Questo è il mio obiettivo, grazie mille Se senti rilassare Questo è il mio obiettivo Questo è il mio obiettivo Dico 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 Taco Dico 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 D Tico 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 tico. E quarto o tre down. Grazie, grazie beaucoup, thank you so much. Thank you very grazie. Ci vorrebbe una trivia molto ma molto più grande, molto più caviente. I need so big machinery for this kind of jobs. Io ho bisogno di una raccogliette molto più grande. I need so big machinery for this kind of job. Vediamo anche un po' se abbiamo a disposizione tra le mod installate una mod con lame per la raccolta dei mais figuranti. 12 metri. 12 metri. Al momento la più grande è questa qui che abbiamo avvistato. ok non ho trovato un piatto più grande, quindi questo sarà il nostro piatto ufficiale fino alla fine un piatto più grande il corp countered moment il migliorno il migliorno il migliorno il migliorno che è questo l'agge 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 grazie mille grazie mille grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Per tutti gli amici inappassionati di Farming Simulator vi consiglio alcuni canali amici che sono Fernbus 08, 9 Gire 0, il presidente, la zappa storta e il gran maestro di Farming Jason Farmer. Se sei impassionato di Farming Simulator, vi consiglio di seguire alcuni canali, alcuni canali amici. che sono Fernbus 08, 9 Gire 0, il presidente, la zappa storta e il maestro Jason Farmer. Se sei impassionato di Farming Simulator, io vi consiglio alcuni canali amici. qui sono Fernbus 08, 9 Gire 0, il presidente, la zappa storta e il gran maestro Jason Farmer. Merci beaucoup. Oui, ho appena finito di presidentissimo, non so se hai sentito la pubblicità al tuo canale. l'ho finita appena appena di farla in francese. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Quando qualcuno merita questo ed altro. Qua sei una persona molto umile. Quindi voglio dire come minimo. Lo faccio a random qua. Come stai? Buon pomeriggio. Hai fatto già pausa caffè? Io qui pausa caffè al momento non l'ho fatto. La farò dopo, dopo la live qua. che mi sono anticipato di una mezz'oretta alla live. Perché ci sono un po' di cosette da fare. Ho detto ma io che mi anticipo così. Insomma riesco a fare tutto quello che devo fare. Ah, ottimo. Mentre il bimbo mangiava il gelato tu hai preso il caffè. Ottimo. Ma sai di questi tempi ci vorrebbe il caffè del nonno. O meglio la coppa del nonno. Non so se te la ricordi. Quel gelato a gusto di caffè. Crema di caffè. Una squisitezza. Si, hai fatto il caffè? I will do later. Est-ce que vous avez déjà fait votre pause café? Oui, je vais la faire tout à l'heure. Je vous recommande de suivre le canal de mon ami Lanzap Storta. Je vous recommande de suivre le canal de mon ami Lanzap Storta, qui en ce moment est live dans le chat. Follow is free. Suivre un canal, c'est gratuit. Allons-y. Suivrons-y. Faire un impousse 0,8. 9. J'irai. 0. Et Monsieur Lamaestro. Jazon Farmer. Farmer. Jazon Farmer. . Sì, sì. Sì, sì. It's too late, apologize. It's too late? No, it's never too late to see. I'm sorry. Ah, ecco. Quindi hai approfittato del break, diciamo così. Mentre il bimbo ti ha concesso, diciamo così che ti ha concesso la pausa. La pausa caffè. Ottimo. Noi. 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 Questa guarda, l'indirizzo. L'indirizzo per andare dove dobbiamo andare. Per dove dobbiamo andare? Se volete andare al manicomio, vi ci accompagno io. Visto che mi trovo, quasi quasi, scarico anche la trebbia. Dopo tocca di fare alcuni lavori qua, vediamo un po' di cosa ha bisogno. Araturo. Va bene. L'aratro dovrebbe essere... eccolo là. E' lì che attende. La zappa storta, la zappa storta. È il massimo che c'è. La zappa storta. La zappa storta. La zappa storta. Stigate, 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 stigate. Questo spazio pubblicitario è offerto da Dub Logistica in collaborazione con la zappa storta. per avere un raccolto molto lineare molto dritto. La zappa storta lo trovi soltanto sui migliori canali Twitch. E qua ci vorrebbe un bell'applausi. la zappa storta. 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 Un tutorial. Il migliore tutorial. Oh yes. Dico bene Presidentissimo. Le tue live sono esilaranti. sono ben fatte. E poi quando si entra nel canale della zappa storta sembra di entrare al bar dove ci si riunisce con tutti i vari amici. E poi quando se tutta la zappa storta. Quando sto toccendo in canale della zappa storta. C'entro un ambiente. Una ambiente amici. È un bar. Di cui si può trovare altre persone. Qui si possono trovare un paese. la differenza Come era? Patrizia, Patrizia, Patrizia. Siamo all'incirca l'80% di capienza del riservatoio qui, quasi quasi. Vado a scaricare di nuovo la trippia direttamente nel silo. Oro, oro, quanto ero ti dai. Oro, oro, oro. Pino Mango, il grande Pino Mango. Giuseppe Mango. Oro, oro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Fernabus 08. La Zappa storta. 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 La Zappa stומa storta. La Zappa storta. La Zappa st rotating. La Zappa stITY. La Zappa st천 timing. La 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 Silence, silencio, relax, tico tico. La 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il turbo star tenda ad abbassarsi. Quando si accelera e si spinge. Andiamo a scaricare la trippia. Grazie a tutti. C'è una mod che permette di convertire gli scarti di lavorazione nel campo in fertilizzante. Quindi si risparmia circa il 50% di fertilizzante chimico oppure naturale. Quindi parliamo di concime come gli scarti corporei dei nostri amici animaletti, animaloni anzi. Oppure fertilizzanti chimici. So using this mod that converts the harvesting. Qui carissimo, tranquillo, buona continuazione. Mi sa che ho letto con ritardo il tuo messaggio. Grazie mille per essere passato in live alla zappa storta e mi raccomando seguite il canale del mitico la zappa storta. E' il presidentissimo la zappa storta. Grazie mille per essere passato in live alla zappa. Grazie mille per essere passato in live alla zappa storta. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti Grazie a tutti andiamo a raccogliere tutti i residui e poi andremo a preparare il terreno per la prossima live per la prossima per la prossima per la prossima andiamo a raccogliere su una mappa sulla piccola mappina piccola mappa sulla mappina lo sfirato per la prossima andiamo a raccogliere su un po' di semi di soia per recuperare ancora qualcosina in termini economici andiamo a raccogliere su un po' di semi di soia andiamo avanti oia a raccogliere su un po' di semi di soia ripieghiamo anche la trebbia e la mettiamo e la mettiamo e la mettiamo la sistemiamo e passiamo a farla se c'è bisogno di fare buoni manutenzi 91 giorni 91 giorni io direi di conservare questi soldi ok ok perfetto e la mettiamo ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Accessories not required for the job. Andiamo a recuperare, mio amico. Grazie a tutti. Andiamo a sistemare il camion. Qui dobbiamo fare anche il pieno. 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 Ok, sembra essere in buone condizioni. Qui dobbiamo fare anche il pieno. 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 Qui dobbiamoforderliare il mio tutto nuive. Qui dobbiamo fare anche il pieno. Qui dobbiamo fare anche il pieno. Qui dobbiamo fare anche il pieno. Andiamo avanti In porto train road, io vedo la pegarra o train road, rabbia csssss Eri una reggidenta di tutta la baia d'Ugizia, avevi un nome semplice, il tuo nome è Farizia Eri una diva spuentita in mezzo agli uclufi Mi chiedi per la mano, la tua brinata mi mancherò Motture in mezzo Motture in mezzo Motture in mezzo Grazie a tutti 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 L'uso del treno Adesso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Arrivare alla stazione ferroviaria Il treno Grazie a tutti Grazie a tutti Vediamo 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 cosa si tratta Vediamo Grazie a tutti Grazie a tutti Bello potente Vediamo 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 Grazie a tutti Vediamo un po' Che più è di 30.000 Ok Lo mettiamo a posto Il nostro mitico turbo star That's alright Very well Let's check This is a mess Oh no no What the mess Che immagino Oh no Vediamo un po' Non sia non bisogna di qualche altra cosa Razione mista Mixer ratio Ok Abbiamo 39.000 litri di razione mista Quindi Possiamo usare anche Questa parte di simba Per Per alimentare i nostri I nostri Crediamo un po' Razione mista a zero Per il nostro mitico Ok 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 Grazie a tutti. 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 Let's go. Grazie a tutti. 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 Nella descrizione del video.